Salve e bentornati su Obscura. Per la seconda puntata del nostro format abbiamo deciso di parlare di una delle figure più importanti della storia del nostro paese, alla quale molte volte non viene però dato un giusto riconoscimento, e cosa più importante, dell'alone di mistero che aleggia attorno alla sua morte. Sto parlando di Enrico Mattei, il padre dell'Eni. Fra un minuto, un minuto e mezzo, queste le ultime parole pronunciate dal pilota Irnerio Bertuzzi prima di perdere i contatti radio con l'aeroporto di Milano Linate. Dalle 18.57 la torre di controllo non riceverà altro che silenzio radio, e questo perché il volo sul quale viaggiava Enrico Mattei si è schiantato al suolo in una giornata piovosa di fine ottobre del 1962. I resti dell'aereo, il Morane sul Nier 760, si trovavano nella campagna di Bascapè, tra Pavia e Lodi. Tra i rottami vi sono anche i resti del pilota di Enrico Mattei e del giornalista americano William McHale, che si trovava a bordo per intervistarlo. L'identificazione dei corpi è complicata perché ore sotto la pioggia i soccorritori lavorano con la speranza di trovare dei sopravvissuti. Così non è. I resti che vengono trovati non sono più grandi delle foglie che li ricoprivano. Una parte di tronco corporeo con una giacca blu fa riconoscere il pilota, grazie alla patente di guida trovata nel taschino. Il piede sinistro, medicato da poco, permette di identificare il giornalista e la fede matrimoniale al dito sinistro permette di identificare Mattei. Ma che cosa accadde sui cieli tra Pavia e Lodi in quel 27 ottobre 1962? Un contadino della zona dichiarò alla stampa di aver udito come un tuono più forte del normale e dopo essere uscito sull'aia di aver visto come il cielo era rosso, bruciava come un grande falò e le fiammelle scendevano tutte attorno. Questa dichiarazione fu però smentita quando venne interrogato dalle autorità. La ritrattazione di quelle parole ha sempre lasciato piuttosto interdetti quanti si occuparono del caso e ha ragione. Ci volle infatti un'inchiesta del procuratore Vincenzo Calia per dimostrare come la prima versione data dal contadino fosse quella esatta, una versione che confermò i sospetti su come l'esplosione del volo non fosse avvenuta all'impatto col terreno, bensì in volo. Attualmente, da un pronunciamento della magistratura sappiamo bene che fu una piccola carica di esplosivo a far detonare ed esplodere il volo di Mattei. Quello che invece non sappiamo è chi siano i mandanti o le cause. Per questa ragione cerchiamo di andare più a fondo. Enrico Mattei nel 1962 era sicuramente uno degli uomini più importanti d'Italia, se non l'uomo più importante. Mosso dal suo mantra brillantemente racchiuso nel titolo di un film da lui commissionato per mostrare l'attività dell'ENI, l'Italia non è un paese povero se si libera dai condizionamenti esterni e con determinazione mette a frutto i suoi talenti. La sua carriera inizia nell'Agip nel 1945, quando Cesare Merzagora lo nomina commissario liquidatore dell'ente. Una volta insediato però, Mattei si rende conto delle potenzialità dell'Agip e decide allora di non procedere con la liquidazione. Superando e ignorando le molteplici resistenze più volte espresse dalle componenti politiche, Mattei riesce a risollevare il destino della società, che in poco tempo riesce ad acquisire un'importanza fondamentale nel panorama nazionale e non, come dimostrazione della capacità italiana di risollevare la testa dopo la disfatta economica ed industriale della seconda guerra mondiale. Dopo aver dato quindi nuova linfa vitale all'Agip, nel 1952 questa cambia il logo, assumendo quello oramai famoso del cane a sei zampe e si prepara alla nascita dell'ENI, l'ente nazionale idrocarburi. Mattei si preparò conseguentemente ad assumere il ruolo di responsabile nazionale delle politiche energetiche, amministrando il neonato organo senza mai essere messo in discussione, né da presidente né da direttore generale. Sostanzialmente, l'ENI era Mattei e Mattei era l'ENI. Il nuovo ente diventa una macchina da guerra governata dallo stesso Mattei che, guidato dal principio di donare all'Italia l'indipendenza energetica, comincia a muoversi al di fuori dei binari tipici prestabiliti dalle consuetudini internazionali, stringendo numerosi accordi con paesi del Nord Africa e Nonna. Queste azioni non passarono ovviamente inosservate, considerando la mole di denaro che iniziò a gestire a scapito di altri. E questi altri erano le cosiddette sette sorelle. Erano le principali compagnie multinazionali, le statunitensi Exxon, Mobile, Texaco, Standard Oil of California, la Golf Oil, la Royal Dutch Shell e la British Petroleum. Le sette sorelle provarono in ogni modo a contrastare le azioni di Mattei, che in ogni occasione fu all'altezza, riuscendo a tenere testa alle giganti del mercato petrolifero. Ma anche all'interno dell'ENI qualcuno non era contento dell'operato di Mattei, ovvero Eugenio Cefis, il suo vice. Ufficialmente né Cefis né le sette sorelle riuscirono a fermare Mattei. Solo quella bomba sul suo aereo riuscì a fermare colui che si era guadagnato un posto tra i giganti del petrolio, un posto che condivideva col suo paese. Dopo la morte di Mattei, Cefis tornò all'ENI, assumendo la guida e avviando quel procedimento di normalizzazione dell'ENTE così richiesto dalle compagini politiche, e riuscendo a stipulare una tregua con le sette sorelle, facendo tornare l'ENI sui binari di un sistema già rodato. Le conseguenze di quel 27 ottobre 1962 si fecero però sentire per anni e coinvolsero chiunque tentò di indagare su cosa accadde veramente a Mattei. Marino Loretti, un motorista di professione, venne allontanato dall'ENI per un sospetto sabotaggio. Nel 1969 scrisse una lettera a Italo Mattei, nella quale sostenne che qualcuno avesse operato affinché non si occupasse più dell'aereo del presidente, e che eseguì un incontro con lui. Incontro che però non avvenne, perché il 14 agosto 1969 Marino e suo figlio Irnerio morirono in un sospetto incidente aereo nei pressi di Ciampino. Una birra ghiacciata fu invece la causa della morte di Salvatore Palazzolo, trovato morto nella sua camera di hotel Diana di Milano, il 18 luglio 1969. Era in possesso di un dossier da lui compilato pieno di rivelazioni sulla fine del presidente dell'ENI, dossier che fu recuperato durante una perquisizione nella sua casa e mai più visto. Mauro De Mauro, morto il 16 settembre 1970, fu ucciso sotto casa sua dopo aver rivelato di essere in possesso di documenti in grado di far tremare il paese, che riguardavano i rapporti tra Stato, mafia e la morte di Mattei. Persino Pierpaolo Pasolini fu autore di alcune teorie sulla morte di Mattei. Nel suo ultimo romanzo, lasciato incompiuto, Petrolio, egli rielaborava la figura di Eugenio Cefis impersonificandolo con Aldo Troia, dipingendolo come un personaggio dal potere persuasivo, in grado di maneggiare gli intrecci di affari miliardari e soprattutto in grado di commissionare omicidi per raggiungere i propri obiettivi, indicandolo come uno dei responsabili della fine di Mattei. La pista mafiosa viene poi tenuta in considerazione, prettamente per l'atto pratico, in quanto ad essa viene imputata la manomissione dell'aereo di Mattei, partito da Catania. Sostanzialmente, Mattei rappresentò un dono per il nostro paese e una minaccia da eliminare per molti altri. Riprendendo le parole che disse a suo fratello quando lo invitava a mollare, mi dispiace, questa è una battaglia che faccio per l'Italia, è troppo grossa, i rischi li conosco, li ho calcolati, pazienza se qualcuno mi sostituirà. Certo, se gliela facessi ancora 4, 5 anni, se mi permettessero di tirare avanti, questa macchina non la ferberebbe più nessuno. L'Italia la trasformiamo davvero questa volta. Anche questa puntata è terminata e speriamo che vi sia piaciuta. Vi diamo appuntamento alla prossima storia di Obscura, segreti d'Italia.